Musica Hi people of youtube, welcome back to the new episode of Gath Autofell A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione di Barbascura, le gemelle e di Shakespeare Oggi invece andiamo a prendere il nostro ultimo alleato Vlad Ah, cambio di programma Non andiamo da Vlad Saitan non aveva molto tempo per reagire alla guerra che Gath ha avuto, perché a casa Jezebel ha avuto una guerra di sua propria Non lo amo Ti pensi che mi importa? Se hai iniziato a agire come un padre, ti avrei Sto guardando il tuo migliore Ti non ti importa la mia felicità? Questo è la tua! Se tu parli di dire... Ti avrai marito questo sainto e non ne sento un'altra parola Non ne faccio Non ne faccio Cos'è netto? You think because you're my daughter You think that you're above it all But schemes are currently in motion Your choice, be a wife or be a throng Oh no, l'ha diato uno schiavo I save the devil in the details And I have some more for you Celestial light doesn't shine a ray here Happy endings are through You belong to me I'm giving you away Your blood will not save you My hand will be cruel If you disobey You belong to me You belong to me Quale sole, sorella? Beh, le ali ce l'hai, potevi già farlo anni fa Ah I gattini Chissà dov'è Josh Chissà dov'è Josh Oh poverina It's not working Kinsey You don't know that, Johnny I'm tearing this place apart but Satan doesn't even seem to We didn't come this far to fail You think I'm giving up? We have one less place to go What if it doesn't work? The bus is counting on us The bus is counting on us You think I don't know You think I don't know How do I burn out a city that's baptized in fire How do I kill off an army that's dead? Time's slipping away now And the best plan we've got is just put one inside Satan's head If roles were reversed God I know they'd save me But all my solutions involve murder spreeeees You have to stay the course And kill without remorse It sounds fun, but what has that done? We're still where we stand The day isn't over yet Our sun's not begun to set No matter how small The wings of a fly can create hurricane Hai ragione Johnny Gat Questo è l'uomo che voglio sposare Hope, I feel hope For the first time I've ever in my life Gat Is the name That cuts through my father Like a knife The seed of rebellion It grows like a weed And someone so violent Is just what I need There's no turning back now The day I've lost The city has found her saints I feel free of arrest The people, the music It waits up above I know I'll be happy When I found love I know I'll be happy When I find love I know I'll be happy In partenza Looks like Satan's noticed That the current disruption Have been caused by everyone's favorite wing terrorist And he's looking to do something about it This place fire emplacement all around the city These things look like Tentacles but make no mistake They can shoot you out of the sky The only way we can stop these things Is to literally rip out their hearts And by we I mean you Debbie Il più è che C'è una missione che è missabile con questi tentacoli Ovvero devi riuscire Aspetta Ho missato Ecco appunto Devi riuscire a colpire Il missile in volo E non è facile Non è per nulla facile Ed eccoci Al castello di Vlad Una fortezza Distaccata da tutto il resto Sembra quasi una prigione E infatti Ci sono i carcerieri Oh aspetta Ho appena trovato una cesta Dè 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 Ottimo Però io ho trovato il forze Senza aver trovato i glifi Trova i glifi per aprirlo Ok Io stavo solo prendendo i cluster eccoci arrivati da vlad oh no è la prigione peggiore di tutte all'inferno poveraccio aiuto lascia giù quel lanciarazzi aspetta ecco fatto tienti su tu ecco fatto questa è la versione breve di sta merda bastardo fermati sfida fra cecchini eh ma scusami pensavo che eri tu dov'è ecco fatto basta con sta canzone bravo vlad spegni la musica e per sempre ah è vero tu avevi l'aura che è fighissima come cosa con tutto l'alcol dei universitari ma ti prego fredda fiamma ora puoi caricare il corpo di energia arcana grazie elemento aura fredda fiamma ok Ok Aiuto, pronuncio! Beh, in centro 4 le armi venivano investite Della stessa energia Vieni qua Sì, però, in teoria Dovrebbe essere anche l'arma Che è intrinseca di questo potere, fratello E con questo La missione di reclutare tutti quanti È stata completata Abbiamo ottenuto tutti i poteri E abbiamo soprattutto Ottenuto nuovi alleati Quindi, signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo episodio Noi ci vediamo al prossimo episodio